Tragico incidente sul lavoro a Rivazzurra, un operaio 65enne cade dall'impalcatura di un cantiere e muore. Profughi in zona turistica Rimini, il consigliere Renzi solleva la questione ma il comune spiega, il problema c'è ma la competenza è della prefettura. Cittadini e democrazia, le riflessioni del sociologo politico Giovanni Moro, figlio di Aldo, in un incontro promosso dalle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. Fine settimana di eventi a Rimini, nel pomeriggio le evoluzioni delle frecce tricolori sulla spiaggia, ieri sera a piazzale Fellini pieno per i big della musica. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, apriamo con la cronaca un incidente mortale sul lavoro in mattinata a Riva Azzurra di Rimini a perdere la vita un operaio napoletano di 65 anni, residente a Bellaria e Giamarina, all'opera nel cantiere di ristrutturazione di un complesso di palazzine in via Marvelli. L'uomo per causa in via d'accertamento è precipitato da un'impalcatura a un volo di 5 piani che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La morte è avvenuta praticamente sul colpo, l'uomo pare lavorasse da solo, nessuno dei primi accertamenti sembra aver assistito alla scena e alla sua caduta. Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 9.30, il sostituto procuratore Ercolani ha disposto il sequestro del cantiere, l'autopsia sul corpo della vittima, sul cadavere non sono stati rilevati elementi esterni che facciano comunque pensare a cause di morte diverse dall'infortunio sul lavoro. Dei primi rilievi si è occupata la squadra mobile della polizia che poi come da prassi ha lasciato le indagini all'ispettorato del lavoro. Ancora la cronaca, la polizia di stato di Rimini ha arrestato un pericoloso latitante sul quale gravava un mandato di cattura internazionale per omicidio e possesso illegale di arma da fuoco. Si tratta di un albanese che nel 2021 in concorso con altre persone partecipò ad una sparatoria nella quale morirono 4 persone e altre due rimasero ferite, compreso l'arrestato. Ieri mattina la polizia di Rimini ha eseguito il mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità albanese. Il giovane, domiciliato in provincia con altri componenti, il nucleo familiare, è stato rintracciato dalla squadra mobile in un hotel di Misano e ora nel carcere di Rimini in attesa dell'estradizione. Cambiamo argomento, l'arrivo di alcuni profughi in una struttura ricettiva di via Praga a Rimini riaccende il tema dei centri di accoglienza in zona turistica. Sollecitata dal consigliere Renzi, l'amministrazione spiega di non avere voce in capitolo su queste scelte. Vediamo. Torna a far discutere la scelta di accogliere profughi in piena zona turistica a Rimini. A sollevare nuovamente il caso in consiglio comunale il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, a seguito di alcuni arrivi in un albergo di via Praga, diventato centro d'accoglienza straordinaria di immigrati di origine africana. Si tratta dei profughi che erano ospitati in precedenza nell'hotel Alba di Miramare, col quale è scaduto l'affitto. Il consigliere chiede di trasferire i CAS esistenti in fascia turistica, come anche a Viserba e Miramare, in zone compatibili e di escludere in futuro questa possibilità dai bandi pubblici della prefettura. Ma l'amministrazione non ha voce in capitolo e la risposta degli assessori Gianfreda e Magrini, che ricordano come la competenza sia della prefettura che non ha obblighi di informare o coinvolgere il comune. Il sindaco già tempo fa aveva scritto al precedente prefetto chiedendo di sospendere l'accoglienza in fascia turistica, ipotesi che però non può essere formalmente esclusa. Le onlus che partecipano a quei bandi si sono acquistate le strutture che non hanno cambi di destinazione, vengono gestite come strutture ricettive. L'amministrazione comunale ha le mani legate da questo punto di vista perché urbanisticamente non possiamo intervenire. Questa cosa qui si risolve solo ed esclusivamente se il governo fa un bel decreto e impone alle prefetture, quindi agli enti locali, di agire di conseguenza per evitare che queste strutture vengano messe in fasce turistiche perché capiamo tutti benissimo la nostra città turistica e queste cose qui creano dei problemi. Ce n'è una di queste strutture di proprietà sia a Miramare che a Viserba stesso soggetto gestore, io ho parlato con l'associazione albergatori, ma ho parlato anche con i singoli albergatori che operano a fianco di queste strutture, stanno creando anche dei problemi di ordine pubblico. Non è una questione di razzismo, non è una questione di non voler accogliere, bisogna però trovare le strade, i modi adeguati, soprattutto nella nostra città, per andare incontro a queste situazioni di difficoltà senza creare dei problemi alla nostra economia. Qui il problema riguarda una città, riguarda la fasce turistica di una città e riguarda soprattutto la trasparenza, gli organi dello Stato devono essere trasparenti, che ne sia il governo della nazione. Si svolgerà domani alla chiesa di Bellariva la prima giornata diocesana dei migranti, sarà il vescovo Nicolo Anselmi alle 10.30 a celebrare la messa, alla quale seguiranno un momento di scambio culturale in teatro, il pranzo con piatti etnici ed un pomeriggio di giochi. Abbiamo chiesto a Don Matteo Malik Faye, responsabile del servizio diocesano Migrantes, di spiegarci il valore di questo momento comunitario. È la prima volta che organizziamo la giornata diocesana del migrante e del rifugiato, vogliamo veramente dare un rilievo di questa realtà perché ci siamo tanti migranti qui, abbiamo la giornata mondiale dei migranti che si organizza in settembre, abbiamo detto facciamo anche quella giornata diocesana in cui scegliamo un tema che è ancora più vicino, che è ancora più diocesano, in cui coinvolgiamo tutti i migranti e anche i diocesani perché sarà una parrocchia. L'idea è anche di soprattutto vivere un momento di gioia, che possiamo vivere insieme, possiamo condividere, condividere tante cose. Il tema di questa giornata è l'unico pane per tutti i popoli. Chi è questo unico pane per tutti i popoli se non Gesù Cristo? Abbiamo veramente scelto questo tema per invitare a condividere il pane eucaristico. Ecco, per primo, insieme a tutti i parrocchiani, gli immigrati in questo unico pane Gesù Cristo e partire da qui anche arrivare al pane che condivideremo dopo la messa, che mangeremo insieme e condivideremo con il vescovo, con tutti i parrocchiani e tutti i migranti. Ieri sera al Castello di Domagnano si è svolto l'incontro pubblico su cittadini e democrazia promosso dalle diocesi di San Marino Montefeltro e di Rimini. Relatore della serata è il professore Giovanni Moro, figlio di Aldo, sociologo politico, professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Sapienza e responsabile scientifico della Fondazione per la Cittadinanza Attiva. Vediamo. Venerdì 9 giugno presso la Sala Montelupo di Domagnano, presso la Repubblica di San Marino, si è tenuto l'incontro con Giovanni Moro, figlio del celebre statista Aldo, organizzato dalle diocesi di Rimini e San Marino e dall'Istituto di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono intervenuti i Vescovi delle Diocesi, Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino e Montefeltro, e Nicolo Anselmi, Vescovo di Rimini. Moro ha trattato temi come cittadinanza e attivismo civico ed ha approfondito quelli a lui più cari come la cittadinanza attiva. La cittadinanza è fare tutto quello che serve, c'è solo l'imbarazzo della scelta, pensare all'ambiente, di cui giustamente oggi si parla tanto. Non credo che esista una politica pubblica, c'è un campo di azione pubblica che riguarda un interesse comune che non possa essere oggetto di questo impegno. Infatti l'Italia non solo è piena di cittadini che si organizzano, agiscono. Ovunque lei gira l'occhio ne troverà qualcuna di queste forme di auto-organizzazione. Che cosa manca a un angelo del fango per diventare un cittadino che domani costruirà una società basata su sani principi? Casomai gli manca il lavoro, il lavoro che lo metta in condizione, come dice la Costituzione, di condurre una vita dignitosa. E gli manca quel rapporto di fiducia, quella fiducia riposta nei suoi confronti da parte delle istituzioni pubbliche, del potere pubblico e anche del resto della comunità politica, perché i giovani vengono visti male un po' da uno sport nazionale, perché pure la fiducia è un elemento importantissimo di crescita e anche di assunzione di responsabilità. Siamo tutti persone e allora tutti a servizio, tutti col desiderio di essere costruttori di comunità, negli ambiti di vita. L'educazione, per esempio, sentiamo che è molto urgente l'emergenza educativa, c'è il tema anche della sanità, può rischiare di basarsi più sui bilanci. Capisco che è un problema, più sui bilanci che sulla dignità di ogni persona. Procede la macchina organizzativa per uno degli appuntamenti cardine della prossima stagione, l'arrivo della prima tappa del Tour de France 2024 a Rimini il 29 di giugno. La carovana gialla partirà da Firenze per percorrere 205 chilometri transitando anche dalla Val Marecchia e da San Marino prima di raggiungere il mare. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo con la regione e le altre città emiliano-romagnole coinvolte. Per Rimini si tratta di un investimento diviso su due anni di 360 mila euro. Importante però il ritorno economico e di immagine. Secondo uno studio commissionato dalla regione si prevede un indotto diretto di 29 milioni in Emilia-Romagna, oltre alla copertura televisiva internazionale. A Rimini è stato oggi il pomeriggio delle frecce tricolori. Dopo le prove di ieri l'esibizione ben visibile da tutta la spiaggia. Vediamo. Non tradisce le attese il Rimini Air Show che ha riportato nel pomeriggio sui cieli riminesi le spettacolari evoluzioni delle frecce tricolori. Sulla spiaggia non solo, tutti con il naso all'insù per ammirare acrobazie che talvolta sembrano sfidare le leggi della fisica. A dare il via al programma sulle note dell'inno di Mameli, il volo di un elicottero del quindicesimo stormo dell'aeronautica che ha calato la bandiera nazionale. Poi la dimostrazione di ricerca e soccorso, l'esibizione dei campioni di volo acrobatico, i moto-alianti e i paracadutisti. Il momento clou intorno alle 16.30 con l'arrivo delle frecce tricolori. Poco meno di mezz'ora di evoluzioni ben visibili da tutto il litorale che hanno richiamato lo sguardo di tutti, bagnanti e non, verso un cielo azzurro tinto di verde, bianco e rosso. E restiamo a Rimini dove prosegue anche all'insegna della musica questo avvio d'estate. Ieri sera migliaia di persone si sono ritrovati in piazzale Fellini per il Tezenis Summer Festival. Oltre 30 gli artisti che si sono alternati sul palco. Nonostante qualche goccia di pioggia iniziata a cadere ad evento iniziato, era decisamente notevole il colpo d'occhio su piazzale Fellini per la prima tappa del Tezenis Summer Festival di Radio 105. Migliaia di persone, alcune fin dal pomeriggio, si sono date appuntamento a due passi dal mare per salutare l'estate con i big della musica. Nel corso della serata, condotta da Maria Sole Pollio e Rebecca Staffelli, si sono alternati all'ombra del Grand Hotel oltre 30 artisti per 4 ore di spettacolo. Per molti è stata l'occasione per lanciare le nuove hit dell'estate, alcune usciranno le prossime settimane, e far ascoltare i medley dei propri successi. Ad esibirsi sul grande palco di 28 metri e alto 12, anche il trio Fedez analisa articolo 31 con la loro disco Paradise pronta a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Analisa articolo 31 si sono poi esibiti anche in solitaria. Tra gli altri, sul palco, anche Rosa Chemical, Mr. Rain, Reduce Entambi dall'ultimo Sanremo, Baby K, Fred De Palma, Achille Lauro e Miss Killa, Gaia, Rocco Hunt e The Colors. A chiudere in crescendo ci hanno poi pensato Tommaso Paradiso e Pinguini Tattici Nucleari, attualmente impegnati nel loro tour stadi 2023. Tre brani a testa per accendere ancora di più il pubblico prima dei saluti finali. E torna questa sera l'appuntamento con Tic Vagli Intrecci della Speranza. Come sempre vi proponiamo un'anticipazione della puntata in onda a partire dalle 20.40. C'è chi per un giorno ha lasciato a riposo la gondola a Venezia e invece della forcola ha impugnato una pala o la lancia dell'idropolitrice. Chi è partito da Parma con il proprio gruppo e si è messo a disposizione là dove c'era più bisogno. C'è chi si è portato avanti con il lavoro durante la settimana e ha recuperato gli straordinari negli altri giorni spallando il fango. Sono centinaia i volontari che in questi giorni raggiungono la Romagna per dare il loro contributo in aiuto della popolazione colpita dall'alluvione. Niente snack, cioccolate o succhi di frutta ma bottiglie di plastica riciclate con marchi di bevande rivisti da quel che dettava la fantasia e aforismi, pensieri, poesie e disegni pensati e realizzati dagli studenti del corso per operatori grafici della fondazione Enaip Zavatta di Rimini a 20 centesimi l'una delle piccole opere d'arte frutto della creatività dei ragazzi e dell'intuizione di una professoressa che ha trasformato un distributore da riciclare in una straordinaria forma d'arte ed espressione, distributore collocato appunto in un luogo d'arte, il museo della città di Rimini. Abbiamo richiamato un po' tutti i vecchi presidenti, chi c'era stato prima di noi e abbiamo cercato di tessere un poco questa rete di memoria in virtù di questa grande festa che ci ha investito sicuramente in tanta energia. Tutte le persone, i bambini presenti, sono sicuramente una cosa che riempie il cuore. La storia e il pensiero di padre Daniele Moschetti sono stati al centro del primo appuntamento di Lions Chiama l'Africa 2023. Moschetti è un missionario combuniano che per anni è stato attivo in Africa e ora opera a Castelvolturno per i diritti e l'accoglienza dei migranti. Appuntamento con Ticva questa sera alle 20.40 su Icaro TV, invece l'appuntamento con l'informazione finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.